Cari bambini, adesso volgiamo la nostra attenzione allo sport. Per gli antichi greci lo sport era molto importante ed era considerato fondamentale nell'educazione dei giovani. Tutte le poleis greche erano dotate di una palestra chiamata ginnasio e di uno stadio, dove i cittadini potevano praticare diverse attività. In onore degli dèi, nelle città greche si tenevano anche gare e giochi sportivi. I giochi più importanti erano le Olimpiadi e duravano 5 giorni. Durante le Olimpiadi anche le guerre cessavano, cosicché gli atleti potessero partecipare ai giochi olimpici. Le Olimpiadi si svolgevano ogni 4 anni. Nella città di Olimpia Per i greci i giochi olimpici divennero così importanti che decisero di contare gli anni proprio a partire dal 776 a.C. Che ne dite se adesso recitassimo tutti insieme una bella filastrocca sullo sport? Filastrocca dello sportivo, sempre in forma e giulivo, viva allegro e contento perché è sempre in movimento. Sano è il sud e il ciclista corre veloce sulla pista. Tanto fiato è il nuotatore come anche il corridore. La fattinatrice sotto e balla pare quasi una forfalla. Si diverte anche col pista e il plato verde è la sua staffa. Grazie! 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 Grazie!